Benvenuti nel mondo degli orologi Lorasee. Lorasee è un marchio di orologi giapponese fondato nel 1982 come divisione della Seiko Watch Corporation. Grazie alla sua attenzione alla qualità, alla funzionalità e al prezzo accessibile, Lorasee si è rapidamente affermato come leader nel settore degli orologi a prezzi accessibili, offrendo orologi di alta qualità con un design moderno e funzionale. Lorasee offre una vasta gamma di orologi per uomo e donna, dai modelli sportivi ai modelli da dress, passando per i modelli casual. Tutti gli orologi Lorasee sono dotati di movimenti al quarzo e sono realizzati con materiali di alta qualità, come l'acciaio inossidabile, il PVD e la gomma, garantendo prestazioni precise e affidabili. Grazie alla qualità dei materiali utilizzati, gli orologi Lorasee sono resistenti all'usura e durano nel tempo. Tra i modelli più popolari del marchio, troviamo gli orologi digitali, gli orologi con cinturino in gomma e gli orologi da immersione, resistenti all'acqua fino a 100 metri di profondità. Gli orologi Lorasee da immersione sono ideali per chi pratica sport acquatici, in quanto offrono prestazioni precise e affidabili anche in condizioni estreme. Inoltre, Lorasee offre anche una linea di orologi per bambini, caratterizzati da un design colorato e divertente, pensati per soddisfare le esigenze dei più piccoli. Oltre alla produzione di orologi, Lorasee ha ampliato la propria offerta includendo anche sveglie e cronografi, che offrono le stesse prestazioni precise e affidabili degli orologi. In conclusione, Lorasee è un marchio di orologi giapponese che offre orologi di alta qualità a prezzi accessibili. Grazie alla sua vasta gamma di orologi per uomo, donna e bambini, Lorasee è un marchio che si rivolge a un pubblico vasto e diversificato. La qualità dei materiali utilizzati e la precisione dei movimenti al quarzo rendono gli orologi Lorasee affidabili e resistenti nel tempo.